Una vetrina importante per l'identità romana e la tradizione marinara, l'assessore Etienne Lucarelli ha annunciato la partecipazione di Fanno alla Rutta dei Fenici, una rete internazionale che valorizza il patrimonio cittadino dal punto di vista culturale e turistico. Infatti si tratta di uno dei 40 itinerari capaci di esaltare le antiche civiltà che dall'epoca dei Fenici fino all'età repubblicana dell'impero romano contribuirono a creare una convergenza culturale mediterranea. La Rutta dei Fenici è un itinerario culturale del Consiglio d'Europa che vuole valorizzare la cultura del Mediterraneo e quindi dai Fenici di tutti i popoli che si sono susseguiti nella colonizzazione di varie aree del Mediterraneo. Con questo la città di Fanno ne approfitterà per creare una smart ways dei progetti che riguardano la marineria, la romanità, lo farà insieme anche altre città, altri istituti che partecipano come fanno alla Rutta dei Fenici che sono il Comune d'Urbino, che sono l'Università degli Studi d'Urbino, che sono la Politecnica delle Marche ed anche il Comune di Colli al Metauro. Quindi un progetto importante che ci darà la possibilità di attrarre fondi europei per queste tematiche e di lavorare insieme, di utilizzare il logo del Consiglio d'Europa della Rutta dei Fenici per lavorare insieme in modo sinergico integrato a questi progetti di grande respiro europeo.